Ciao, io sono Adelia Germi, vivo a Roma e sono un'aspirante attrice. Ho intrapreso questo percorso all'incirca un anno e mezzo, due fa, studiando la tecnica di Susan Batson e di Ivana Chabak. Mi piace tantissimo scrivere, leggere e delle volte anche fotografare la gente, soprattutto osservare la gente. Mi piace stare molto in perfetta solitudine. Niente, amo Bergman, Tarkovsky, Dostoevsky e basta così. Vi ringrazio.